Personale della Polizia di Stato, squadra mobile della Questura di Enna, ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal GIP di Enna a carico di un pregiudicato indagato per violenze e maltrattamenti in famiglia commessi in danno della compagna convivente e aggravati dall'essere stati commessi in presenza di figli minori. La donna, negli ultimi tempi, ha presentato diverse denunce per i maltrattamenti subiti a opera del convivente raccontando di essere stata oggetto di insulti, vessazioni, minacce, percosse, umiliazioni, aggressioni e violenze da parte del compagno. Il clima di terrore e sopraffazione ha avuto il suo apice nel pomeriggio dell'8 marzo scorso, giorno della festa della donna, quando la vittima, al culmine dell'ennesima lite, è stata scaraventata a terra dall'ex compagno, colpita con calce alla schiena e al fianco destro, fino a riportare la frattura di una costola. In esecuzione dell'ordinanza, dunque, la squadra mobile di Enna ha allontanato l'uomo dall'abitazione coniugale, prescrivendo di mantenersi a una distanza di almeno 200 metri dall'ex compagna e dalla casa in cui avvenivano le violenze. Grazie. Grazie a tutti.